Si è concluso dopo 50 giorni lo sciopero della fame di Mikhail Saakashvili, il leader dell'opposizione ed ex presidente della Georgia, ha accettato di porre fine alla sua protesta in seguito al trasferimento dalla clinica della prigione, dove è detenuto, all'ospedale militare nella città di Gori. Saakashvili era stato condannato in contumacia per abuso di potere durante la sua presidenza ed è stato arrestato al suo rientro nel paese il primo ottobre scorso.